Torna in Italia, un gruppo scultorio straordinario da Los Angeles, dal Getty Museum, qui a Roma, nel Museo dell'Arte Salvata, un gruppo che rappresenta Orfeo e le Sirene, un capolavoro dell'arte greca di IV secolo a.C., probabilmente scavata clandestinamente nel territorio di Taranto. Forse è una tomba e il mito è quello di Orfeo che con la musica vince le Sirene, le Sirene si suicideranno proprio per l'oltraggio subito da Orfeo e questo è un mito e anche un simbolo, una possibilità di sopravvivenza oltre la morte. La musica assicura la sopravvivenza dell'anima. Dopo il soggiorno qui a Roma la vedremo a Taranto nel Museo Marta.